La ricerca di un'alimentazione sana e salutare è un fenomeno che ha preso sempre più piede negli ultimi anni. La diffusione di prodotti a base di cereali alternativi come kamut, quinoa, grano saraceno va dalla GDO al ristorante e trasversalmente a varie tipologie di clienti. In particolare, l'83% delle mamme ritiene importante la cura dell'alimentazione per la propria salute. In questo contesto, Agrigal, giovane azienda agricola bergamasca, si è affacciata nel mondo dell'alimentazione salutare puntando sull'eccellenza del mais spinato, un grano antico della Valseriana, e realizzando prodotti gustosi e salutari coltivati biologicamente secondo logiche di piena sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni locali. Per posizionare il proprio brand secondo i valori di autenticità, bontà e genuinità, Agrigal ha puntato su un'idea innovativa e coinvolgente che consentisse il contatto diretto con i consumatori affini a questi valori per trasmettere al meglio l'identità del proprio brand e quindi ottenere risultati immediati di vendita e acquisizione di nuovi clienti a fronte di un budget contenuto come tutte le start-up. La scelta ricaduta sul consorzio Vero Volley, unica realtà pallabolistica a livello europeo a presentare due squadre in Serie A1, maschile e femminile, anche per la condivisione dei valori di una cultura alimentare e innovazione. È stato realizzato perciò un piano di iniziative multicanale tramite i canali del consorzio, una comunicazione attraverso post dedicati sui canali social, la presenza con hostessi stand brandizzati a sei partite di Serie A1 e a un evento dedicato al mini volley offrendo la prova prodotto e la distribuzione di flyer con coupon a sconto dedicati. Il tutto veicolando il traffico verso i canali di Agrigal. Un'esperienza unica e coinvolgente che ci ha permesso di ottenere contatti diretti con i nostri clienti e ora aspetta a noi coltivarli e a farli crescere, proprio come facciamo con il nostro mais.